Scusi, scusi, oh buonasera signora, mi dica, le posso fare una domanda? Dica pure, mi sento così triste oggi, cosa posso fare? Eh deve ridere, paradossalmente se lei si sente triste per vincere la tristezza lei deve ridere. Grazie. È semplice, se non riesci a farlo guardandosi allo specchio vado a vedersi un video di qualcuno che racconta una barzelletta per esempio, lo faccio subito, va bene? Io devo andare perché devo governare le galline, arrivederci. Arrivederci. Oh, finalmente un raggio di sole. Salve. Buonasera. Mi faccia sorridere un po'. C'è un signore che si sente male per giorni e giorni, mali, vari, dolori al corpo, allo stomaco e mangia tantissimo. Ha sempre fame, si decide di andare dal proprio medico. Va dal dottore, dice dottore io ho questi problemi, mi fa male il corpo, non faccio altro che mangiare, non so che cosa mi sia preso. Il dottore lo fa sdraiare sul lettino, lo visita accuratamente e gli dice, si accomodi, prego. È grave dottore, che cosa ho? Non si preoccupi, lei ha il verme solitario. Mamma mia, ma è grave, c'è un bau dentro l'intestino, sì, è piuttosto grosso. E come devo fare? Io non posso neanche pigliare pasticche, sono allergione ognosa. Non si preoccupi, ho io la cura naturale per lei, grissini e uova sode. Ma come? Devo mangiare ancora? No, 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 le deve prendere via anale. Lei praticamente si procura undici grissini e dieci uova sode. Lei tutti i giorni si inserisce prima un grissino nel culo a seguire subito un uovo sodo. Per dieci giorni, dieci grissini, uno al giorno e dieci uova sode. L'undicesimo giorno, lei si inserisce solo il grissino. Vedrà che il verme solitario esce fuori. Una volta uscito, gli pianta la testa e gliela schiaccia. Fine della storia. Arriva a questo mino, tutti i giorni si inserisce un grissino nel culo a seguire un uovo sodo. E così il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, fino al decimo giorno. Grissino nel culo a seguire uovo sodo nel culo. Arriva all'undicesimo giorno, sul suggerimento del dottore, si inserisce solo il grissino nel culo. E aspetta. A un certo punto esce fuori la testolina del verme solitario. Oh, un uovo. Carina. Grazie.